Il giornalino di Gian Burrasca, 9 dicembre. Sono alla diciannovesima minestra di capellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5-6 minestre al giorno, tutte di capellini, ma se ne accorgeranno. Intanto stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè ed era un divertimento dopo il veder come sputavano tutti quanti. Oggi poi c'è stato in casa un viavai di gente e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno che Caterina ha riposto subito nella credenza chiudendo la chiave. Io però sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto. Lo dico subito, la scatola era piena di altre piccole scatole tonde sulle quali era scritto con lettere dorate, nozze, stoppani, maralli. È stata una rivelazione per me. Ah, ho detto, c'è uno sposalizio in casa e non mi si dice nulla? Ah, c'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiarmi in essere dei capellini dalla mattina alla sera? E aperto il sacchetto portato dal pasticcere, il cui contenuto dopo aver scoperto quello della scatola non era più un mistero per me, mi son fatto una bella scorpacciata di confetti esclamando No, cari miei, deve festeggiare gli sposi e anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio e sarebbe una vera ingratitudine il non fargli prendere parte alla festa. 10 dicembre Evviva gli sposi, evviva Giannino e abbasso le minestre di capellini. Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio. Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta e quando ho sentito un po' di rumore in casa zitto zitto mi sono alzato, mi son vestito e sono stato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ho suonato il campanello e il vetturino e tutti sono usciti. Allora io che stavo pronto, lesso come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta a poco distanza da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo dietro il mantice e mi sono ficcato lì a sedere come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me. Ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza e tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva Per carità, badate che quel terremoto di Giamburrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo. Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh, maraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna, nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. Che chiesa è questa? Ho domandato a un contadino che era lì fuori. È la chiesa di San Francesco al Monte. Sono entrato anch'io e ho visto, dinnanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia, e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare, senza che nessuno si accorgesse di me. E così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori nell'ombra e ho detto «Sono contento anch'io! E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero e tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante «Giannino mio, Giannino mio, ma come hai fatto a venire fin qui?» Il babbo ha borbottato. «Una delle solite!» Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato, ma il Maralli mi è parso molto malcontento e preso mi per un braccio mi ha detto «Vada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto, hai inteso?» «E perché?» «Non ti picciare del perché, non sono cose che possono capire i ragazzi queste, sta zitto e basta!» «Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire!» «Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo?» «Basta! L'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene! Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta con il vetturino e ho guidato quasi sempre io e quel che più conta che ora non mangerò più minestre di capellini per un pezzo». «Basta!»